La dodicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli amiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Il premio è quello di boutique di eccellenza dell'anno, diritto amministrativo consulenza. Il premio va a Fidone Associati Società Benefit tra avvocati. Eccoli. E allora andiamo a leggere la motivazione mentre fate il vostro red carpet per fornire al cliente una consulenza professionale idonea a soddisfarne le esigenze specifiche, assistendolo in tutte le questioni legali, con particolare riferimento ai contratti pubblici e appalti, dimostrando una profonda conoscenza degli strumenti normativi del diritto amministrativo. Eccoli qui. E allora vi lasciamo il palco con un passettino avanti per le nostre foto. Ecco, questa è più o meno l'altezza giusta per la luce. Complimenti boutique d'eccellenza dell'anno, diritto amministrativo consulenza. Siamo in compagnia dell'avvocato Giovanni Francesco Fidone, managing e name partner di Fidone Associati, società Benefit tra avvocati. Benvenuto avvocato. Grazie e buonasera. Grazie per l'ospitalità. E avvocato inizio subito col chiederle chi è Fidone Associati, società Benefit tra avvocati. Fidone Associati è una realtà giovanissima, una boutique che opera principalmente nel campo del diritto amministrativo. È una società Benefit tra avvocati che è nata da appena un anno. Un gruppo di professionisti, un tempo indipendenti che hanno comunque condiviso un percorso insieme. Hanno deciso di sposare un progetto comune e nasce quindi Fidone Associati lo scorso anno. Si costituisce in forma di società Benefit con due sedi. Una in Sicilia orientale in provincia di Ragusa, che è una delle terre più floride economicamente del meridione, anche del centro Italia. Quindi è una delle zone economicamente più forti dell'Italia centro-meridionale. È un piccolo studio. Siamo in 14 professionisti tra soci e collaboratori e ci occupiamo prevalentemente di diritto amministrativo. Dalla nascita dello studio abbiamo anche sviluppato dei micro dipartimenti che sono dedicati ad altre materie, ma diciamo che il core business rimane pur sempre il diritto amministrativo. Ecco, voi vi siete appunto costituiti in società Benefit. Le chiedo perché avete scelto questa forma societaria? Siamo stati una fra le prime società Benefit tra avvocati in Italia. Abbiamo fatto una scelta consapevole in quanto crediamo fortemente nell'impegno e nel valore sociale della nostra professione. Abbiamo compiuto una scelta consapevole che non è una vuota enunciazione. Ci siamo costituiti in forma di società Benefit perché intendiamo creare valore nelle comunità in cui viviamo, intendiamo dedicare la nostra professione alla responsabilità e all'impatto sociale e traduciamo questo impegno in iniziative concrete che insomma sono utili a creare valore nella comunità. Abbiamo approvato il nostro primo bilancio pochi giorni or sono e insieme al bilancio abbiamo approvato anche la nostra relazione sull'impatto che va a individuare tutte le iniziative Benefit protese all'esterno, quindi alla comunità, ma anche all'umanità che deve connotare la nostra professione. Ecco, come vi collocate all'interno del mercato legale e con quali prospettive guardate al futuro? Siamo senza dubbio una piccola realtà che è partita dalla Sicilia, è cresciuta e ha messo radici anche a Roma, puntiamo molto sulla nostra sede romana, anche alla luce della sfida che attende il nostro paese, che attende tutto il mondo delle imprese che è il PNRR. Si tratta di una sfida epocale che noi vogliamo cogliere a sostegno ovviamente delle pubbliche amministrazioni, delle società partecipate e delle imprese che si avvalgono della nostra assistenza e della nostra consulenza. Quindi l'obiettivo è rafforzarci ulteriormente su Roma, sicuramente, anche perché Roma è la patria delle pubbliche amministrazioni e le principali agenzie e amministrazioni statali si trovano a Roma, a Roma c'è il Tarlazzo e c'è il Consiglio di Stato e quindi il nostro impegno è proteso a rafforzare ulteriormente la nostra sede romana, senza dimenticare le nostre origini perché la stragrande maggioranza dei professionisti che compongono lo studio sono comunque siciliani. Quindi partiamo da lì, ma abbiamo, tra virgolette, esportato il nostro prodotto professionale anche al di là dei confini regionali e isolani, nello specifico.